Benvenuti. Oggi in questo approfondimento parleremo dell'importanza di un vaccino anticancro e per farlo lo facciamo con un esperto, il professor Aldo Venuti, responsabile della HPV Unit dell'Istituto Nazionale dei Tumori, Regina Elena. Professore, benvenuto. Grazie dell'invito e sono molto contento di poter parlare di questo argomento perché anticipo quello che sarà il tema della chiacchierata che molto probabilmente questo vaccino è uno dei cardini che potrebbe permettere l'eliminazione del primo tumore umano dalla faccia della Terra. Benissimo, questa è un'ottima premessa. Allora, facciamo un passo indietro e io inizierei con una domanda semplice e giusto per mettere tutti sullo stesso piano. Cosa significa HPV? È un acronimo che significa Human Papilloma Virus. Il virus è il virus che fu individuato, fra altre cose, da un medico italiano all'inizio dell'altro secolo, il dottor Ciuffo, un medico sardo. È un virus che si trova nella papillomatosi, cioè le verruche comuni che tutti conosciamo cutanea e anche quelle a livello genitale che si chiamano condilomi. È un virus a DNA molto piccolo, però è in grado di replicarsi soprattutto a livello della superficie cutanea, ma anche a livello degli epiteli, quindi anche a livello della cervice uterina, che è la zona più importante per lo sviluppo eventuale di un cancro. Ok, e questo virus come si trasmette tra umani? La trasmissione è essenzialmente, anzi direi quasi esclusivamente, trasmissione sessuale. Sono indicate altre possibili fonti di trasmissione, ma bisogna ricordare che questo virus è la trasmissione sessuale soprattutto. Quindi solo con l'atto sessuale si è la trasmissione del virus. Ok, e questo virus quanto è diffuso in Italia, in Europa in generale? È un virus diffuso? È estremamente diffuso. Si calcola, ad esempio, che in Italia e anche nel Sud Europa si ha una prevalenza del virus nelle donne non ammalate, quindi perfettamente sane, che intorno al 10%, quindi è una prevalenza abbastanza elevata. E simili prevalenze ci sono anche nel maschio, anzi il maschio è considerato un reservoir di questo virus, perché rispetto alla donna va meno incontro a patologia, ma più spesso rimane infetto da questo virus. Ok, quindi sappiamo che questo virus HPV è in grado, in alcuni casi, dopo vedremo come e quando, di causare un tumore. Ma ci puoi spiegare in breve, in parole semplici, come un virus può causare un tumore? Allora, il virus in generale sono delle strutture molecolari molto semplici che sono evolute per replicarsi all'interno delle cellule del nostro organismo e quindi hanno capitalizzato questa piccola struttura avendo delle proteine, cioè dei mediatori della loro attività, che sono state sviluppate per replicare il virus. Cioè il virus entra nella cellula, produce altre particelle e vanno via. Questo è il ciclo di replicazione normale e in genere, per l'HPV in particolare, non dà luogo neanche a una patologia, quindi è un'infezione che passa e va in apparente. Per alcuni HPV, quindi non tutti, si sa che alcune proteine, che vengono definite oncogeni appunto per questa capacità di dare tumori, oltre a svolgere la loro funzione normale nel ciclo di replicazione del virus, possono interagire con alcune molecole fondamentali della cellula. Faccio un esempio per tutti. La P53 è una molecola che viene indicata come un po' il controllore dell'integrità delle cellule umane. Il virus, attraverso una proteina, la E6, interagisce con questa P53 inibendo le attività e quindi un'infezione persistente può a lungo andare generare un tumore, inibendo quindi queste vie di controllo della cellula umana. Certo, quindi ci ha detto che non tutti i ceppi di HPV hanno questa capacità, fortunatamente, però il vero problema è che la maggior parte di queste infezioni sono totalmente asintomatiche, quindi magari io contraggo il virus, il virus inizia a replicarsi, però io non me ne rendo conto perché non dà sintomi. Quindi questa è forse la minaccia più grande di questo virus. Ma quindi esiste una soluzione nei confronti di questa infezione e di questa potenziale cancerogenicità? Esiste una soluzione, è estremamente efficace e devo citare che, come diceva giustamente lei, non sono tutti gli HPV, gli HPV che si conoscono sono più di 200. In realtà solo una dozzina sono in grado di dare tumori e in realtà di questa dozzina solo il numero 16 e il numero 18, HPV 16 e 18, sono quelli più frequentemente associati al tumore. Quindi noi abbiamo a disposizione attualmente due grosse armi. La prevenzione attraverso i vaccini, che è stata sviluppata inizialmente contro il 16-18, che sono questi più frequenti, adesso l'ultimo vaccino è contro 9 ceppi diversi del virus, quindi è ancora più efficace, che è la prevenzione primaria, la vaccinazione. La prevenzione secondaria, che è lo screening, il famoso PAP test, che spero sia conosciuto comunque con un sistema che facendo un prelievo citologico a livello della cervice si riescono a individuare le lesioni in una fase precoce, prima che si sviluppi il tumore e quindi consentire un intervento. E devo dire un'altra cosa importantissima, secondo me, è anche poter dare informazione, cioè quello che stiamo facendo noi. E da questo punto di vista devo dire che ci sono anche altre società, come la Lega Italiana dei Tumori, ma anche la Fondazione Calabresi, e le cito espressamente perché sono quelle che insieme all'HPV Unit del mio istituto seguiamo di più quello che è la problematica inerente all'informazione sull'HPV. Quindi questi sono i cardini, dare informazione, vaccinare e fare lo screening nelle donne, perché nell'uomo non abbiamo una possibilità di screening. Quindi lo screening nelle donne, ma la vaccinazione è sia per gli uomini che per le donne. Ecco, a proposito di fare informazione, forse un qualcosa che va esplicitato, va detto, perché probabilmente non è così ovvio, è che anche gli uomini possono sviluppare dei tumori legati all'infezione ad HPV, corretto? E' corretto, anzi il tumore più frequente associato ad HPV nell'uomo è il tumore dell'orofaringe, della tonsilla in particolare, dove abbiamo un'incidenza di questo tumore nell'uomo tre volte superiore alla donna, quindi è una patologia più di pertinenza maschile che femminile. Non abbiamo, come dicevo prima, dei sistemi di screening precoce, quindi ancora di più anche la vaccinazione nell'uomo ha sicuramente una valenza non solo nel proteggere le compagne, non solo nel prevenire le malattie sessualmente trasmesse tipo la condilomatosi, ma anche il tumore della cavità orale. Ci sono degli studi, e noi stiamo facendo un trial clinico nel mio istitutio, per valutare se anche la vaccinazione in età adulta ha la stessa valenza preventiva sia dell'infezione dell'HPV ed eventualmente dello sviluppo dei tumori. Ok, torniamo allora a parlare del vaccino. Siccome esiste questo vaccino che è molto efficace, è anche molto sicuro, esistono degli esempi di altri stati, altri paesi dove una campagna di vaccinazione massiccia ha dato già dei risultati tangibili? Allora, diciamo che ci sono il vaccino, come ho detto, uno dei tipi di vaccino era in grado di proteggere sia dall'eventuale infezione dai ceppi ad alto rischio, quindi che provocano tumore, ma anche contro altre due ceppi che sono legati a una malattia sessualmente trasmessa, la condilomatosi. Siccome la latenza tra un'infezione e il tumore è di 15-20 anni, mentre quella tra l'infezione e la condilomatosi è molto più breve, i primi dati, ad esempio dall'Australia, ma poi sono succeduti quelli dalla Svezia e anche da altre nazioni, indicavano che chi si vaccinava non sviluppava la condilomatosi. Quindi avevamo un'evidenza sul campo, quindi non in studi, in trial clinici ad hoc, che il vaccino era efficace. Adesso la nazione dove si è iniziata per prima questa campagna, che è l'Australia, nel 2007, ha fatto sì che adesso, a distanza di quasi 15 anni, abbiamo i primi dati che ci indicano come le lesioni precancerose, i CIN3, ma anche i tumori, sono in netta diminuzione in Australia. In Australia, bisogna dire che è il primo paese che ha adottato questa campagna vaccinale, c'è stata un'adesione altissima, cosa che purtroppo non posso dire lo stesso per l'Italia, forse perché hanno deciso di vaccinare a scuola. Quindi tutti i bambini a scuola venivano vaccinati ed è il sistema di vaccinazione migliore per aumentare le coperture vaccinali. Ha un ottimo sistema di screening, il PAP test, efficiente, associato ultimamente anche all'HPV test. E quindi si pensa che l'Australia sarà il primo paese dove il tumore della cervice uterina molto probabilmente potrà essere eliminato. Le stime attuali indicano che si avrà praticamente l'eliminazione del tumore intorno al 2035. Quindi da oggi al 2035 però ancora parecchia popolazione necessita del nostro intervento. Certo, questi sono sicuramente dei dati incoraggianti. Noi in Italia invece per seguire l'esempio dell'Australia, oggi in Italia chi è che si può vaccinare con il vaccino anti-HPV? In Italia da fine 2008 è iniziata una campagna vaccinale su scala nazionale che invitava le dodicenni, sia i maschietti che le femminucce, a vaccinarsi. E questa vaccinazione è gratuita. In alcune regioni questa gratuità viene stesa anche a coloro i quali non si sono vaccinati quando erano dodicenni, quindi fino a 25-28 anni. Ma in generale chiunque può vaccinarsi, maschio o femmina, appunto dai 12 anni fino ai 45 anni. In casi eccezionali si è anche provveduto alla vaccinazione di individui oltre i 45 anni. Questo perché la vaccinazione è estremamente efficace, ma soprattutto è estremamente sicura, perché come tutti sanno ormai le vaccinazioni sono uno degli interventi medici più seguiti, perché qualsiasi evento avverso post-vaccinale deve essere registrato. E per il vaccino HPV questi eventi sono risultati rari e quelli più gravi, alla resa dei conti, cioè all'analisi successiva, si è visto che non c'era un nesso casuale fra vaccino e evento avverso. Quindi è un vaccino sicuro che va effettuato sicuramente. Quindi in Italia dai 12 anni fino ai 45 anni ci si può vaccinarli, sia gli uomini che le donne. Ecco, molto importante aver ripetuto e ribadito questi concetti perché c'è molta confusione attorno a questo vaccino che invece lei ci ha spiegato, ci ha mostrato che potrebbe essere la chiave per eradicare completamente un tumore dalla faccia della terra e penso che questo sia un risultato fantastico. Quindi per concludere, l'ultima domanda che vorrei farle è quindi perché vaccinarsi contro HPV? Ecco, io rovescierei la domanda. Perché non vaccinarsi? Cioè siamo di fronte a un intervento, la vaccinazione, estremamente sicuro, che non dà effetti collaterali, almeno riportati a oggi come eventi avversi. Quindi perché non proteggersi dall'eventuale sviluppo di un tumore? Non stiamo parlando di una patologia minore, di un semplice raffreddore, quindi di un tumore. E quindi esattamente è l'opposto. Si dovrebbero vaccinare tutti e la domanda è perché non vaccinarsi? Professore, la ringrazio molto. Grazie.